Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi spero di riuscire a portarvi a vedere un po' una nuova città. Indovinate un po' dove siamo? Firenze! E finalmente sono a Firenze e qui vedremo un po' che cos'è che troveremo in giro. Ciao a tutti! 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 Abbiamo trovato a Firenze un posto dove vendono prodotti siciliani e quindi ho deciso dove volevo assaggiare un al burro e vediamo un attimo com'è e come sa. il profumo è buonissimo! adesso l'assaggio! Buono! sì! Sì! ciao a tutti! Ciao a tutti! Siamo al festival del gelato e sto provando il gelato con il postacchio e crema catalana. allora proviamo la crema catalana che sarebbe tipo la crema di caramello che sarebbe tipo la crema di caramello dato che chissà che caramello sono meglio così mi piacciono di più. è sempre la crema che si è molto bella con un'altra isola sulla crema di caramello che è buona andata come un nuovo al lobo, e non vai sopra la crema di caramello, ma anche poi si può prendere anche un'altra crema di caramello e non è così così si può prendere. di nocciola, quindi io anziché prendere pistacchio crema cartellana credo di aver preso nocciola e di pan grazia, va va, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono a Ibrindellone che è una specie di trattoria in mezzo alle strade e ho ordinato i taglierini al tartufo e lo stracotto alla Fiorentina. Ma vediamo cosa arriva, ecco mi sa. Noi inseriamo che non è stratta per niente. Allora. 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 E' arrivata anche la ribollita. Adesso lo assaggiamo se non potete sentire come è stato intanto. quindi lo assaggiamo subito. Buono? Buono. 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 Buono.